Buongiorno amici di Ante.it, un buongiorno a due carissime persone che sono state già ospite del collega Narcisi per il Marcuzzo, giustamente non possiamo non lasciarli andare, anche perché parliamo dell'Abruzzo. Il Vice Presidente del Consiglio regionale Paolo Gatti, buongiorno. Buongiorno. E il Sindaco di Pena Sant'Andrea Severino Serrani, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora parliamo innanzitutto a livello regionale perché io penso che questo 2017 sarà ricordativo, anche se qui lei è molto giovane, io so qualche anno più di lei, però erano anni che non c'erano tutte queste calamità, terremoto, maltempo. Come sta vivendo l'Abruzzo? Come ne state uscendo? Anche perché so che ci sono ancora tante criticità. Insomma, intanto psicologicamente sta diventando un po' complicata la questione perché noi veniamo dal terremoto dell'Aquila e dintorni del 2009. Stavamo uscendo e poi agosto è ricominciato quest'incubo, il 24 agosto, poi ottobre ancora con le scosse, poi gennaio il combinato disposto. Insomma, psicologicamente non è semplice. Poi da un punto di vista materiale è chiaro che i danni sono stati tanti, soprattutto nel Terramano. All'inizio abbiamo avuto un governo un po' disattento che non si era reso conto esattamente di quello che era accaduto. Adesso qualcosa sta migliorando, adesso siamo a luci ed ombre, ancora più ombre che luci. Ovviamente speriamo che intanto il tempo diventi più clemente e il terremoto decida di abbandonarci, di lasciarci con queste scosse che speriamo che si affievoliscano. Dopodiché dobbiamo prepararci a un tempo lungo perché l'abbiamo visto anche con l'Aquila, il tempo di ricostruzione, di tornare alla normalizzazione, un tempo lungo. Naturalmente occorrono risorse, occorrono buoni sindaci, buoni amministratori per fare in modo che le cose si facciano, come si dice, presto e bene. E quindi insomma adesso, ovviamente le nostre comunità sono chiamate ancora una volta a dare una grande prova. Ecco, prima di passare al collega Alzenalo, volevo seguitare un attimo con lei anche perché ho avuto qualche esponente politico da quest'altro versante marchigiano che giustamente mi ha parlato un po' che rispetto a quello che successe all'Aquila dove in uno spazio di tempo molto breve furono sistemate 60.000 persone. Purtroppo adesso per questa calamità si sta un rimbalzo da un ente all'altro, non si danno le giuste proporzioni a chi dovrebbe veramente fare e come noi italiani insomma tante chiacchiere, è poco costrutto. Quando si dice che il tempo è galantuomo, nel 2009-10 Berlusconi e Bertolaso furono massacrati e invece la gestione dell'emergenza a distanza di tempo, adesso la situazione storicizzata è stata una cosa spettacolare. Nel giro di pochi mesi decine di migliaia di persone con delle case nuove, sicure, accoglienti. Ma nello stesso lasso di tempo adesso nel 2017 chi governa adesso ha messo su 25 casette e fa il sorteggio. Esatto. Mi pare... Ha capito la mia domanda ancora. Mi pare... No vabbè ma questo non ci deve servire per dire che Berlusconi era bravo e quelli di adesso sono asini. Ci deve servire per prendere esempio, per capire che bisognava fare, bisogna fare come si è fatto allora. Allora ci fu il segnale che l'Italia era un paese serio, organizzato, una principale potenza al mondo. Oggi purtroppo in questi primi mesi siamo sembrati assomigliare più al Burundi che all'Italia del 2009. Passa parola e nient'altro. Belle parole, era un po' quello che aveva capito la mia domanda. Sindaco, lei come sta vivendo questo inizio 2017? La vedo sorridente quindi penso che sia molto ottimista. Beh, sono ottimista per natura perché bisogna essere ottimisti, altrimenti non ci si può candidare ad amministrare un paese. Certo. Certo, è un momento difficile, credo il momento più difficile della storia. Ho chiesto a qualche anziano in paese se ricordavano un evento del genere e ultra novantenni, lucidissimi, tra l'altro, non hanno mai sopportato un evento del genere. È stato un evento veramente straordinario, abbiamo toccato un po' di tutto. C'è stata una nevicata che è andata al di sopra di qualunque aspettativa. Ha superato i due metri abbondantemente nel mio paese, ma soprattutto nella nevicata si è aggiunto un terremoto che veramente ci ha fatto sfiorare la tragedia. Perché in quei momenti sono crollati diversi tetti, diverse persone sono rimaste senza abitazioni e il mio paese in questo momento è un paese devastato. Un paese dove un centro storico non esiste in pratica più perché sono stato costretto a sgomberare tutte le famiglie che vivevano nel centro storico. Poi oltre a questo si è aggiunta che è mancata l'energia elettrica per diversi giorni e dopo nel momento in cui è iniziata la fase di scioglimento delle nevi purtroppo si sono generate delle frane lasciando isolate delle frazioni. È stato veramente un momento terribile, un momento difficile, spero che non si ripeta più. Ecco, come sta vivendo questo momento visto che già è entrata la primavera quindi si pensa già di pensare a quello che sarà l'estate e quant'altro. Adesso passato questo momento vi state un po' rimboccando le mani perché noi come italiani anche se dopo lo diceva il vicepresidente qua che sì c'è sempre tra il dire e il fare di mezzo il mare però siamo bravi anche a riuscire a fare anche in tempi non brevi qualcosa. Le maniche io le porto rimboccate anche in inverno perché anche durante gli eventi nevosi lì forse c'era bisogno veramente di un impulso forte sul territorio per dare tranquillità a quelle persone, tranquillità che avevano perso. Adesso dobbiamo pensare a ricostruire, dobbiamo pensare, stiamo già lavorando per cercare di far tornare le cose alla normalità. Certo non sarà facile e ci vorrà senz'altro del tempo ma tocca a noi in questo momento. Certo ci deve essere l'aiuto delle istituzioni più alte. Il governo deve fare degli sforzi proprio oggi sono in discussione degli emendamenti e per esempio il mio paese è uno di quelli esclusi dal cratere del sisma non essendo nel cratere sarà un pochettino più difficile ricostruire però io spero che nel decreto neve ci sia un qualche cosa di importante anche per il nostro territorio perché altrimenti difficilmente riusciremo a rialzare la testa comunque ce la metteremo tutta. Noi facciamo l'imbocca al lupo, una battuta per chiudere con il dottor Gatti, ecco in regione c'è sempre tanto da fare quindi la priorità diciamo è la provincia di Terramo oppure avete anche altre impellenze che vi riguardano quotidianamente? Per me sarebbe semplice dire visto che sono l'opposizione dire che purtroppo questo governo regionale ormai tre anni insomma la situazione è abbastanza grigia. La principale competenza della regione è la sanità, gli strumenti che abbiamo di finanziamento europeo è tutto fermo, bandi fermi, quindi sarebbe semplice e potrebbe sembrare il gioco delle parti. Adesso la questione del terremoto e del maltempo in particolare per la mia provincia, per la provincia di Terramo diventa centrale, devo dire che anche in questa faccenda il governo regionale non è che si sia dimostrato tanto vicino e tanto amico. Ma ripeto non lo dico perché sono l'opposizione che avendo governato in passato so le difficoltà e non mi va di fare un'opposizione strumentale però insomma il supporto che sta avendo la provincia di Terramo a questa regione è davvero poco e soprattutto è una regione che sembra quasi che due o tre anni fa si sia fermata, non c'è una progettazione, non c'è un sogno, non c'è neanche un sogno e spesso c'è anche la difficoltà di gestire dignitosamente il quotidiano. Noi facciamo l'imbocca al lupo entrambi per quanto riguarda il nostro sito, grazie per questa presenza, quindi buongiorno e in bocca al lupo per il suo lavoro, al dottor Gatti e al sindaco di Penna Tant'Andrea Severino Serrani. Grazie. A voi.